Alcune assunzioni si devono fare, altre assunzioni no. La consigliera D'Agostino squarcia il velo sui procedimenti dell'Aggiunta Municipale. Con questo duro atto d'accusa, Sapri Democratica commenta l'affondo alla maggioranza della consigliera che in una lettera aveva dissentito dalla procedura di stabilizzazione avviata dal Comune di Sapri per ricoprire due posti, di cui uno riservato ai vigili urbani. Il gruppo di opposizione, alla luce di quanto emerso, ha deciso di vederci chiaro anche sull'assunzione a tempo indeterminato di un geometra, procedura questa già espletata. All'indomani dell'assunzione del geometra Antonio Pugliese, dicono dalla minoranza, i consiglieri comunali di Sapri Democratica hanno fatto richiesta di tutti gli atti della procedura concorsuale, preso atto delle gravi accuse lanciate dalla consigliera D'Agostino in relazione alla trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione nei procedimenti di assunzione e a cui nessuno dei soggetti in indirizzo pare abbia dato riscontro. L'Adagostino infatti lo scorso 6 settembre aveva presentato una lettera al sindaco facendo sue le argomentazioni di un esposto anonimo. In esso si evidenziava che i precari da stabilizzare per legge devono aver svolto tre anni di lavoro presso lente nella stessa mansione per cui concorrono. Aspetto questo, secondo la consigliera, interpretato in maniera cavillosa e partigiana dall'amministrazione. L'Adagostino aveva dunque concluso secca, dissento dalle procedure amministrative adottate, invitando chi di dovere a ripensare all'opportunità di procedere oltre. Una cosa che sa predemocratica non vuole far passare in silenzio. La consigliera, dicono dal gruppo, parla di favoritismi e cammini già segnati che andrebbero a mortificare le aspettative di tanti ragazzi, anch'essi vigili precari. Di qui la decisione del gruppo consigliare di vederci chiaro anche rispetto all'assunzione del geometra e di inviare tutti gli atti relativi alla denuncia dell'Adagostino, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Procura di Lago Negro per verificare i fatti e le attività poste in essere dalla pubblica amministrazione.